Nelle vaschette della mensa scolastica per gli alunni di Benevento non c'erano né vermi né parassiti, almeno secondo l'ARPAC che ha depositato in procura le sue conclusioni sulle analisi effettuate dopo il sequestro operata nell'area del vecchio stabilimento della Ristorò qualche anno fa interessato da un incendio. La notizia è stata anticipata oggi da otto pagine. La visita dell'ARPAC dei carabinieri del NAS risale allo scorso 10 aprile, quando erano stati portati via alcuni contenitori presenti in una vasca per sottoporli ai necessari accertamenti. L'esito segna un punto a favore per l'azienda nell'inchiesta che da alcuni mesi il sostituto procuratore Miriam Lapalorce e i finanzieri del nucleo di polizia tributaria stanno conducendo sul servizio di mensa scolastica affidato all'ARPAC, un argomento che sta tenendo banco da mesi sollevando non poche polemiche in città. Nel mirino dell'attività investigativa sono finiti la qualità e la quantità dei cibi serviti e il rispetto del capitolato d'appalto tra comune di Benevento e Ristorò. Attenzione puntata inoltre sulle problematiche che hanno determinato lo stop del servizio di fornitura dei pasti deciso dall'ASL per le strutture dei pazienti psichici. L'azienda ha sempre respinto ogni adebito rivendicando la bontà e la tracciabilità degli alimenti serviti ai piccoli e la completa aderenza a ciò che nel capitolato è previsto. Ora il pronunciamento degli esperti dell'ARPAC che hanno consegnato le risultanze delle analisi alla procura sannita.